Saverio Gileno è il nuovo segretario dei giovani democratici d'Abruzzo, come aveva annunciato nei giorni scorsi il presidente della commissione congressuale Paolo Pratense. La candidatura unitaria di Gileno è stata sostenuta da tutte le federazioni provinciali. Amore, una generazione per l'Abruzzo, è già un programma. Oggi con il quinto congresso regionale dei giovani democratici d'Abruzzo vogliamo segnare una nuova stagione per i diritti e per le necessità dei giovani e delle giovani abruzzesi. Pensiamo che sia arrivata l'ora di rappresentare le ragazze e i ragazzi abruzzesi a partire dalle prossime regionali. C'è bisogno di una generazione di under 30 che si occupi di questa regione, una regione che perde il 30% di studenti universitari negli ultimi dieci anni, in cui l'immigrazione giovanile è altissima. C'è bisogno di impegnarsi per cambiare lo stato attuale delle cose, a partire dall'università, dalla scuola, dai diritti, dalla tutela dell'ambiente. Con il congresso di oggi vogliamo segnare un impegno nuovo dei giovani democratici per fare in modo che si arrivi alle regionali con una rappresentanza e con dei temi giovanili all'interno del dibattito. Tra i punti programmatici è anche la lotta, la precarietà e la transizione ecologica. Se riguardo indietro a cosa era tre anni fa, vedo il quadro di un'organizzazione giovanile che sì era attiva e voleva cambiare il mondo, che poi è il nostro grande obiettivo, però a livello numerico era molto ridotta, molto limitata. Oggi svolgiamo un congresso con 45 delegati, con più di 100 giovani compagni e compagni all'interno della nostra assemblea e soprattutto con una platea di scritte e di scritti rinnovata, grande in tutta la regione, in tutti i territori e soprattutto ci tengo a dirlo equamente distribuita fra uomini e donne che devono dare il loro contributo per un Abruzzo migliore.